C'è va a Mondovì. Tornano con le loro bandiere le brigade partigiane autonome che per venti mesi condussero tra questi colli l'eroica vita dei volontari della libertà. Da Torino è venuto l'arcivescovo Fossati. Sul colle del San Bernardo di Bastia è il sacrario dei novecento caduti. Tra questi contadini forse è quella madre che ebbe il coraggio di gridare ma siete tutti al figlio impegnato da solo contro una squadra di tedeschi. Il comandante Mauri parla ai superstiti del primo gruppo formazioni alpine e parla il generale Cadorna che comandò il corpo volontari della libertà. Poi decora la staffetta Lucia Boetto. Dolci colli d'autunno, indimenticabile fortezza di un tempo.